Novena alla Madonna Adolorata Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di dolori, il crocifisso è con te. Adolorata sei tu fra le done, e adolorato è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre del crocifisso, ottieni lacrime di compunzione, a noi, crocifissori del figlio tuo, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesto giorno La crocifissione Vedere un figlio, il più buono dei figli, innocente. Gettato con furia sul legno di una croce Vedere il martelo e i chiodi Assistere al crudele inchiodamento Vedere schizzare il sangue Dalle mani e dai piedi Sentire i ripetuti colpi di martelo Che strazio per una madre Qualunque donna sarebbe morta Qualunque donna sarebbe morta O sarebbe caduta svenuta O si sarebbe aventata Come una tigre sui carnefici Maria Santissima È là A pochi passi da Gesù Non parla Non grida Soffre Soffre in silenzio Per assaporare di più L'amarezza del calice O dona Il tuo dolore è grande Come il mare Tu puoi dire O voi tutti Che passate per questa via Fermatevi e vedete Se c'è dolore simile al mio Ave Maria Piena di dolori Il crocifisso è con te Addolorata sei tu fra le donne E addolorato è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre del crocifisso Ottieni lacrime di compunzione a noi Crocifissori del figlio tuo Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Com'era nel principio e ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Madonna addolorata Prega per noi